oh salve utenti di youtube strunzo coca cola 2011 ma che bel video del cazzo che hai fatto te dovrebbero dare l'oscar alla cazzata tu tu sei uno di quelli che dovrebbe prendere una corda una corda sai fare il cappio e ammazzasse io quelli come te quando ero al riformatorio gli ha spezzato tutte le gambe così cric e cracche cric e cracche tre costole rotte il cranio fracassato vinza spappolata io lui si è spezzato un diamante se te becco per strada tu prega prega che io non mi alzi da questa sedia l'hotel e prega ma sappi io sto per diventare partnership delle lume porco due e niente io quelli come te me li mangio a colazione mi vedi queste braccia non ti faccio vedere cosa sa fare con queste braccia porco mio mappidi non ti faccio vedere cosa sa fare con queste braccia non ti faccio vedere cosa sa fare con questa braccia come te lo faccio vedere cosa sa payer con queste braccia non ti faccio vedere cosa ande